Il saldatore è fondamentale per il nostro hobby e un buon saldatore è fondamentale per avere saldature decenti e droni che volano bene. Io sono Mattia e oggi vi parlo del S60P di Secure che è uno saldatore che mi è stato inviato da Secure per testarlo e che si propone come alternativa al vecchio TS100 che è per me il go-to, il miglior saldatore che ho avuto nei vari anni e quello che consiglio praticamente sempre a tutti. Tra l'altro il TS100 ha anche dei firmware custom che vi ho mostrato come installare in un video molto vecchio che però vi lascio linkato in descrizione. In descrizione trovate anche i miei social, l'account Patreon e già che ci siete il tasto per iscrivervi. Allora il Secure S60P è il successore del S60, S60 aveva una tensione inizialmente fino a 12V poi con firmware upgrade a 20V, questo va a 21V, ha un firmware un po' più rifinito e funziona bene con gli alimentatori USB tipo C oltre che l'alimentazione con il cavo XT60 che vi viene incluso in confezione. Io ho la versione kit che comprende vari accessori e che per il prezzo che ha può essere un buon affare se la trovate al prezzo che vi dico perché include anche un alimentatore corretto per questo saldatore. Il discorso alimentatore non è da sottovalutare perché per esempio sul TS100 molti acquistano il saldatore e poi non sanno che alimentatore acquistare o ne prendono alcuni che non sono proprio adatti e non si riesce mai a raggiungere la loro potenza effettiva. Entrambi i saldatori sono da 65W ma vi mostrerò durante il video che c'è una bella differenza di velocità nel raggiungere la temperatura impostata. Ora non perdiamo tempo andiamo a vedere cosa ci danno nel kit che ripeto è diciamo l'affare e poi vediamo un po' il menu e le impostazioni e le differenze con il TS100. Vi mostro cosa vi danno nel kit questo ricordo è il kit che sul loro sito costa attorno ai 67 dollari su Aliexpress ci sono prezzi un po' strani ma mi aspetto che in Italia si possa trovare attorno ai 100 che sarebbe un prezzo un po' forse troppo alto però comunque la dotazione è abbastanza ampia quindi un po' si recupera. Ovviamente c'è il saldatore che è l'S60P c'è un alimentatore 65W QC3 quindi si può usare con USB di tipo C che vi danno un cavo incluso cavo che dovrebbe tenere fino a 100W che ha il led di stato oppure con la USB di tipo A con un cavo classico. L'alimentatore ha i pin per il mercato americano ma vi danno in confezione anche l'adattatore per noi europei quindi così montato ed è un alimentatore che se cercate qualcosa di simile su Amazon lo pagate un 25-30 euro quindi comunque fa parte del costo di tutto il kit. Poi classico porta stagnatore semplice niente di che valore qualche centesimo e poi vi danno quattro punte che secondo me sono un po' il punto dolente di questo kit perché sono quattro punte tutte e quattro volte a lavoro SMD perché sono tutte punte con diametro abbastanza piccolo e quindi per le saldature più grosse da fare sui nostri droni tipo i cavi motore oppure l'XT60 sono un po' piccole ci vuole parecchio tempo l'unica secondo me che è quella più usabile è questa a scalpello che comunque come punta mi sono trovata abbastanza bene è l'unica che ho usato perché queste sono troppo piccole so già che andranno bene magari quando devo riparare una FC ma non per montare un quad normale si installano semplicemente premendole dentro il saldatore una cosa da notare subito del saldatore è che è molto più corto del TS100 questo è il mio classico TS100 e quindi si ha un grip un po' migliore quando si va a saldare si riesce ad essere un po' più precisi perché vedete se io metto in mano il TS100 ho tutta questa lunghezza diciamo che devo controllare è un po' più difficile soprattutto per chi ha le mani un po' meno ferme di me oltre alle altre punte che sono una conica stretta una conica stretta con la punta un po' inclinata e una conica super sottile ad uncino che ripeto sono punte che vanno bene per SMD poi vi danno il cavo per utilizzare il saldatore con una lipo quindi xt60 usb tipo c il saldatore va fino a 21 volt quindi tendenzialmente sarebbe meglio usarlo al massimo con 5S con 6S non riuscite ad usarlo e infine vi danno dello stagno l'ho provato è uno stagno senza infamia e senza rode c'è scritto che è un LED free secondo me si comporta molto simile al 60-40 che uso io è uno 0,8 comunque sono 12 grammi non è tantissimo ma magari vi serve per provare il saldatore le cose più importanti però sono capire come prestazioni se è simile al TS100 se può essere anche migliore innanzitutto comodo il discorso usbc ma ce ne sono tanti altri con usbc perché per esempio io a banco utilizzo il Toolkit RC P200 che sarebbe un alimentatore a banco super piccolo che vi ho mostrato anche in un video che vi lascio linkato in descrizione e quindi posso alimentare il saldatore tramite usbc di quell'alimentatore e risparmiarmi un alimentatore sulla scrivania certo si può fare anche col TS100 se vado ad utilizzare l'XT60 sempre collegato a quell'alimentatore però è un po' più scomodo e solitamente per sfruttare al meglio questo TS100 vado sempre a prendermi il suo alimentatore vediamo velocemente anche il menu cliccando una volta il tastino a sinistra si abbassa il tastino a destra si alza la temperatura vedete 400 se tengo premuto il tasto a sinistra si accende il saldatore che va in temperatura se tengo premuto il tasto a destra andiamo sulle impostazioni di qui premendo il tastino sempre a destra ci si sposta tra le varie opzioni che abbiamo in questo menu mentre col tasto sinistro si va indietro quindi avanti e indietro tenendo sempre premuto il tasto destro vedete che ci sono le impostazioni effettive del saldatore qui ho modificato gli step cioè vedete work temp 400 gradi temperature step è di quanto salio ogni volta che cliccate ho messo 10 gradi anziché i 50 che aveva prima idle si può andare a vedere lo slip time e slip temperature idle time e sensitive queste sono impostazioni che servono per il discorso del mettere il saldatore in standby quando non lo toccate e dopo un po' di tempo che non lo toccate che è in standby si spegne proprio del tutto questo è uguale anche sul ts100 e anche la c'è l'impostazione OLED è per la gestione dello schermo possiamo andare a cambiare la luminosità la direzione se siete mancini lo girate dall'altro lato qua possiamo scegliere di modificare le impostazioni di come agiscono i tasti per mettere il più e il meno al contrario sempre per un discorso di andare a trasformare il saldatore in modalità diciamo mancini e poi la lingua non ho guardato sinceramente se c'è l'italiano ci guardiamo subito e direi che non c'è c'è russo o inglese per uscire da un'impostazione si aspetta vedete che da solo esce e se aspetto ancora tornerò al menu principale ecco il menu principale volt qui andiamo a gestire la tensione e io ho lasciato tutto in automatico però qua se andate a usare una lipo su low volt vi conviene andare a inserire la tensione a cui la vostra lipo sarà troppo scarica calibre per la calibrazione della punta e about informazioni quindi vedete niente di particolare menu abbastanza gestibile quindi da questo punto di vista fatto molto bene al di là delle funzionalità che sono un po' diverse perché qui abbiamo firmware custom mentre qui abbiamo il firmware classico di secure in teoria sono entrambi dei 65 watt in pratica ora vedrete che il TS100 è più lento a raggiungere la temperatura prendo l'alimentatore anche del Secure e poi vi mostro quanto tempo ci mette a raggiungere la temperatura cercherò di farli partire contemporaneamente vedete che il Secure è già a 400 gradi mentre il TS100 era a 200 e qualcosa e arriva a 400 gradi adesso siamo 390, 399, 400 vedete che il Secure sta assorbendo di 11 volt mentre il TS100 sta andando a 19.1 volt è una differenza in realtà bassa considerando anche che già il TS100 è molto veloce e che nella maggior parte dei casi si può aspettare tranquillamente che arrivi in temperatura il TS100 però comunque è una cosa da considerare altra cosa da considerare è sempre il discorso punte perché al di là della scelta poco felice secondo me o comunque non adatta alle FPV delle punte incluse c'è comunque una buona scelta per entrambi e le punte per TS100 che sono vendute e prodotte anche da Secure costano attorno ai 10 euro l'una mentre queste punte per l'S60P vengono vendute a circa 590 quindi riuscite a prendere molte più punte con gli stessi soldi quindi avere un arsenale di diverse possibilità entrambi hanno la possibilità di spegnere entrambi hanno la possibilità di andare in stand by quando non li toccate per parecchio tempo e altre feature che ora diamo per scontate perché siamo abituati al TS100 ma che insomma sono comunque interessanti su uno saldatore a livello di portabilità secondo me non c'è questa grossa differenza perché dove vi sta in borsa il TS100 vi sta anche questo interessante è il fatto che vi diano il case la custodia già inchiusa quindi non dovete fare spese ulteriori a livello di prezzo se acquistate solo il saldatore senza il kit spendete attorno ai 40 45 euro forse anche meno a volte con delle offerte a 35 mentre il TS100 ormai sta sempre sui 40 ma più facilmente anche 50 euro quindi nonostante sia un prodotto un po' più datato il prezzo si è mantenuto un po' più alto perché comunque è la scelta standard per tutti quelli che cercano un saldatore di qualità non c'è molto altro da dire su questo saldatore ma comunque se state valutando l'acquisto di un nuovo saldatore vi piace il USB tipo C questo l'ho provato e secondo me vale i soldi che costa in descrizione vi lascio il link al sito ufficiale e altri posti dove l'ho trovato e poi ai miei social se volete iscrivervi al mio canale Patreon o seguire le mie offerte sul canale Telegram spero che questo video vi sia stato d'aiuto se non è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao